L'emozione dell'attesa è pari al desiderio di mettersi subito alla prova. Sentimenti che coincidono tra i giocatori dell'ex Privia Molfetta alla vigilia dell'esordio in Superlega. L'appuntamento di domani pomeriggio, inizio alle 18 contro Milano, ha una duplice valenza per i biancorossi. Misurarsi contro una formazione ritenuta alla pari e valutare il lavoro di preparazione svolto in questi due mesi che hanno preceduto il campionato. Sicuramente c'è tanta voglia di far bene, sia da un punto di vista personale, sia da un punto di vista della squadra e della società. Sono due mesi che ci prepariamo tanto, sia fisicamente che tecnicamente. Non vediamo l'ora domenica di mettere in campo tutto ciò su cui abbiamo lavorato. Non sbagliare l'approccio è la parola d'ordine del Molfetta, rinnovato sia nella guida tecnica, con l'arrivo di Vincenzo Di Pinto, che in gran parte del roster. Ringiovanito e con qualche elemento, proprio come del Libero Romiti, ha la prima esperienza in Serie 1. Campionato nel quale l'ex privia vorrebbe vestire i panni della formazione guastatrice, la classica mina vagante che possa dar fastidio a molte squadre. Milano è avvertita.